siete curiosi di sapere che cosa sto pensando allora is curta aio beniga di conto buon pomeriggio a tutti sono di nuovo qua in piazza bagno reggio stersili meglio conosciuta come sagorve di massusoli mi sono fermata un attimino sono diretta a casa di babbo ma c'è un bellissimo sole e questa fontanella è caldissima ne ho approfittato per riflettere pensare è venuto in mente ma com'è che i vermi del sugas marzo sono considerati pericolosissimi e sono tra i più buoni che possono esistere al mondo e poi nel mercato ci vogliono mettere insetti e scarafaggi di ogni tipo io certe contraddizioni non le capirò mai ma c'è una sola spiegazione a muovere quella macchina non è la logica no è il denaro è il denaro che fa comodo a tanti mi fa molto piacere che se siano smobilitati tutti quei pastori tutti quelli agricoltori e l'ha insegnato la storia l'interesse di pochi ha cercato di cambiare il corso di molte persone poi però la ragionevolezza e la giustizia hanno sempre trionfato